ma ragazzi qua i gamers hd restanti qua con un nuovo video insieme a me c'è il buon manokadgamer bella raga e oggi non siamo sul pc ma siamo sul mio telefono siamo anche noi su clash royale anche noi siamo finiti in questa droga leggera leggera venga tanto leggera allora oggi cosa faremo apriremo 1 2 3 4 5 6 bauli in totale e poi andremo a fare una partitina partiamo dal baule oro 147 d'oro due orde di sgherri 7 frecce 9 barbari e due torri infernali 45 d'oro 5 orde di sgherri e una parola di sgherri guarda che non è male 48 d'oro 5 barbari e un mini pecca che non uso danni da un paul e omaggio 44 d'oro due gemme due cannoni paroli con il baule della corona 141 d'oro e gemme 5 bombaroli una valchiria un gigante e 13 barbari allora un mazzo per spaccarti il culo dai faccia di cazzo a vedere che vinco sempre ok ragazzi il mazzo è pronto una rara e 7 epiche mi invitavo chiedi chiedi l'amichevole ragazzi allora ragazzi questo sono mazzi 7 epiche e una rara vedete ma hanno il vantaggio c'è su me ma proprio per per carte vai gigione a vedere ok lo sentite sto vedendo beh non male ragazzi non male sulla fascia sinistra non male sulla fascia sinistra ok andiamo a distruggermi quella torre la prima torre per mano ragazzi 1 e 0 buono 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 ma bello ha dato anche un altro colpo lì non l'ho neanche visto allora noi mettiamo un altro strattore qua dietro perché qua ci pensiamo così eh bella bella questa mi è piaciuta bravo budis prima volta che usare la furia ragazzi bravo budis allora ora noi dobbiamo controattaccare in qualche maniera mamma mia intanto gli scheletrini che allora qua mi perdiamo la torre proprio fisso ok perfetto va bene e ora ragazzi si attacca tipo mettiamo qua così poi facciamo così e ora si va a prendersi l'altra torre ragazzi boom eccola qua eccola qua la torre eccola qua ragazzi che giocata the place e ma che dici andiamo per le tre stelle andiamo ci andiamo ci andiamo ci andiamo mate ci andiamo eh si che ci vai via via e vai tre corone mi dispiace budis mi dispiace budis mi dispiace budis e la prima è andata ma cosa fanno? i scheletrini hai visto? hai visto? bellissimo ragazzi vediamo un po' come ci sono le nuvole eh ci sono le nuvole ragazzi oddio è partito scazzatissimo oddio mi sa che perfetto così gli abbiamo preso quasi una torre e va benissimo così ah ragazzi c'è una differenza di 800 copp cioè capite eh infatti capite vuoi che te la prenda la torre o no? no non vuoi guarda guarda che carica ah unlucky unlucky motto unlucky preti unlucky ok perfetto doma torri di là tanto in qualche maniera si deve difendere in là ok ha spiegato tre e la torre sua è andata giù penso forse si eccola lì giù la torre poi giù tutte le sue truppette del cavolo eh budis mi dispiace cioè alla fine se vuoi toccarle ah no una l'hai toccata dai bravo bravo quel barile lì lo sai lanciare nel momento giusto no no è vero perché giochi sempre dopo che hai giocato le frecce oppure lo giochi a casa esatto più probabile ah bella 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 veramente bravo boom unlucky guarda 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 quei quei goblin ah e mo mi piacere ragazzi e mo non porto che un po' di qualità quindi ragazzi direi che la nostra umile parte l'abbiamo fatto quindi ragazzi dai wikimers hd è tutto per questo primo episodio su crash royale vediamo di portarne altri anche da prospettiva di manu dai wikimers hd è tutto bella bella raga buon review